un saluto da dottor palmas un altro caso risolto denti fissi con sistema bocca bionica una paziente che arrivava con dei denti metallo ceramica e plastica resina incollati sopra impianti e radici naturali questa è l'arcata superiore questa è l'arcata superiore e inferiore assolutamente dei denti incongrui abbiamo rimosso tutti questi impianti paziente questa che era stata truffata gli erano stati fatti dei denti incollati sopra gli impianti abbiamo proseguito la chirurgia posizionando impianti sia sull'arcata superiore che inferiore abbiamo rimosso gli impianti presenti eseguito correttamente la nuova chirurgia e su di questi impianti posizionati nuovi denti provvisori qua sul lato destro vedi e sinistro il tipo di chirurgia che è stato eseguito sulla sinistra i nuovi impianti posizionati sulla destra gli impianti che sono stati rimossi abbiamo eseguito un test una simulazione dei nuovi denti questi sono denti in plastica abbiamo simulato le corone di zirconio le abbiamo testate sopra la barra di titanio che è stata poi successivamente rivestita con la gengiva artificiale qua vedi le protesi finite con la gengiva artificiale sopra qua vedi invece il test dello zirconio in bocca alla paziente questi sono invece i test in plastica dai quali poi si ricava la barra in titanio e le forme dello zirconio abbiamo simulato delle forme di denti per realistici con lo zirconio nota le traslucenze del margine incisale degli incisivi abbiamo tenuto delle forme rotonde molto femminili che si adattassero al viso rotondo della paziente questa è la composizione dei denti nel sorriso dei denti perfetti abbiamo anche trovato il match della gengiva il colore corretto gengivale questo è l'effetto madre perla dello zirconio che si riesce a ottenere che conferisce alla dentatura quella sensazione di denti vivi vitali il paziente la paziente avrà una copia dei denti in cloud disponibile in caso di problemi è stata usata l'intelligenza artificiale per dare i contatti corretti tra le due arcate simulando i movimenti della bocca della paziente e abbiamo ottenuto questo risultato perfetto partendo da delle scansioni di denti reali